Partiti, primi metri di gara con all'interno Gandari, all'esterno Olmo Online, quindi Ginso, Ela, Rio Hill, Marple, Young Edition. All'attacco della prima piegata in avvantaggio troviamo Olmo Online, in seconda posizione in giubba blu con i quadri bianchi Ginso. Per vie larghe Ela, per vie interna il fuccio nero di Gandari, dall'interno verso l'esterno Young Edition, Marple e Rio Hill. All'attacco della seconda piegata in avvantaggio c'è Olmo Online che porta a spasso la compagnia, in seconda posizione si mantiene Ginso. Per vie interna Galoppa Gandari, per vie esterne Ela, nel cuore del gruppo troviamo Marple, quindi per vie interna Young Edition e per vie larghe Rio Hill. I sette concorrenti nella distanza di cinque lunghezze con in vantaggio Olmo Online che grado a piacimento al sesterno ad accompagnarlo ci fa Ginso. Per vie interna Galoppa Gandari, per vie esterne Marple, quindi Ela, Young Edition e Rio Hill. Al completamento della terza piegata in avvantaggio sempre Olmo Online, per vie esterne si è portato Marple che si porta in seconda posizione con il terzo a Ginso, quindi Gandari in quarta. Troviamo anche richiesto sotto frusta Ela e a chiudere troviamo Rio Hill. Olmo Online è in vantaggio, sesterno Marple, per vie larghe c'è la punta di Gandari, quindi Ginso, Young Edition e Ela e a chiudere Rio Hill. Quando Olmo Online è nelle mani di Germano Marcelli e 600 metri conclusivi è in avvantaggio, in seconda posizione c'è Marple, quindi Ginso c'è la risalita anche di Young Edition e per vie larghe c'è richiesto di Gandari. Quando Olmo Online è nelle mani di Germano Marcelli, per vie esterne c'è la punta di Ginso, per vie larghe c'è quella di Gandari, quindi Marple e Young Edition. Quando Olmo Online sta scappando nei confronti di Ginso, quindi Gandari e Marple sull'ultima curva. Olmo Online è nelle mani di Germano Marcelli, si cira per controllare la situazione, è in avvantaggio. Olmo Online si cira a destra e a sinistra, Olmo Online viene a vincere facilmente nei confronti di Ginso e Gandari e il buon finish anche di Young Edition. Ma Olmo Online viene a vincere facile nei confronti di Ginso, quindi Gandari e Young Edition. Qual è il più classico dei cost to cost, Olmo Online è Germano Marcelli, il doppio in serrata, il doppio anche per la società MS, il doppio anche per la razza dell'Olmo. Rivediamo lo slone, il monitor dell'informo, la vittoria per Olmo Online che vince facilmente signori. Impressive per Olmo Online è Germano Marcelli. Per la seconda posizione con lo scorre delle immagini vediamo il numero 3 di Ginso e per la terza il numero 2 di Gandari. 5-3-2, l'ordine numerico ed ufficioso per questa sesta e conclusiva corso del Martini. Il vincitore è Olmo Online, la quota al totalizzatore nazionale è 4,50.